Weekend sfortunato per il pilota sulmonese Cristian Micocero nel secondo round del trofeo Dallop Cup a Misano. La prima sessione di qualifiche ufficiali del sabato mattina prefiguravano un ottimo piazzamento in griglia di partenza, ma all'avvicinarsi della bandiera a scacchi e sul tratto più pericoloso del tracciato romagnolo, chiamato il curvone, che si percorre ad oltre 250 km orari, la perdita di aderenza della gomma anteriore ha causato una rocambolesca caduta che gli ha provocato una brutta contusione della spalla destra e diversi ematoni. È stato tempestivamente soccorso e trasportato al Medical Center, ma per fortuna solo tanto spavento, in quanto dopo una serie di accurati acceleramenti non è stato riscontrato nulla di grave, come invece si temeva. Diversi danni subiti dalla sua Yamaha R1, ma l'intero team, dopo essersi rassicurato sulle condizioni fisiche di Micocero, si è messo subito al lavoro per ricostruire la moto distrutta e per verificare che tutto funzionasse, consentendo al centauro del motoclub Abruzzo di partire nel pomeriggio per il secondo turno di qualifiche ufficiali, concluse con il impiazzamento in ottava posizione. Nella giornata di domenica Cristian Micocero, nonostante l'assunzione di una forte dose di antidolorifici, è riuscito ad affrontare la competizione. Con la moto non in perfette condizioni, è stato però costretto ad una gara in difesa per non perdere punti in campionato e a concludere in nona posizione. Il prossimo appuntamento, sperando in una miglior sorte, è in programma il 10 giugno all'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga.